Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Era da un po' che volevamo parlare di autoclicker su questo canale perché ritengo che sia uno degli strumenti più importanti per tutti, indipendentemente che voi siate degli spender oppure dei giocatori assolutamente free to play. Il gioco vi dà a disposizione 30 multibattaglie giornaliere che di questi tempi anche per un giocatore free to play sono poche. Magari all'inizio quando ancora non c'erano tutte queste fasi ma soprattutto non c'era questa energia a disposizione perché il gioco tutto sommato ora vi regala anche una generosa quantità di energia gratis tutti i giorni senza toccare le gemme. Ecco, una volta 30 multibattaglie potevano essere sufficienti, ora non più. Allora, la Plarium adesso ve ne dona qualcuna in più in base al vostro livello, quindi per esempio noi che come clan siamo di livello 5, come credo la stragrande maggioranza di voi, abbiamo 10 multibattaglie in più. Se poi avete la ride card come me, per esempio, vi danno 70 multibattaglie extra, più le 30 vuol dire 100, più quelle del clan 110, ce n'è qualcuna in più. E già questo potrebbe essere sufficiente per molti di voi, come multibattaglie, insomma, automatiche senza dover toccare il gioco. Però, sebbene la Plarium abbia deciso di investire anche nelle multibattaglie, infatti mi pare di aver visto prima un'offerta che riguardava proprio questo, quindi energia più eventuali pacchetti di multibattaglie, non hanno comunque mai ostacolato lo sviluppo degli autoclicker, vale a dire quei programmi esterni, quei programmi di terze parti, che vanno a cliccare determinati tasti, insomma, per noi, permettendoci di fare delle multibattaglie senza utilizzare le multibattaglie. Allora, molti di voi potrebbero considerare questa cosa illegale, in realtà non lo è, per due semplici motivi. Nel dizionario ufficiale di Ride, proprio Ride Dictionary, che potete trovare nel forum ufficiale della Plarium, esiste la voce autoclicker, questa qui, AC Autoclicker, un tipo di software che può essere utilizzato per automatizzare il click dei mouse, insomma, sul computer e altre cose. Quindi, se la Plarium stessa inserisce nel loro forum ufficiale la voce autoclicker, significa che è legale. Chissà perché non trovate in questo dizionario vendita di account e cose del genere. Inoltre, degli youtuber famosi, come per esempio Dart Microtransaction, ne hanno parlato in veste ufficiale, e loro sono dei creatori di contenuti della Plarium, quindi veste ufficiale assolutamente è legale, è legit, si può utilizzare senza aver paura di ban, ok? Grandioso. Allora, l'autoclicker in realtà è una cosa abbastanza semplice e si basa sul fatto che se noi andiamo a pigiare determinati tasti della tastiera, abbiamo la possibilità di far ripartire le battaglie. Infatti, adesso permettetemi di togliere questo pollame e di metterne dell'altro. Questo video so già che mi costerà un po' di energia, ma non importa, si spende volentieri per i bene della comunità. Cosa comunque già nota, credo per la stragrande maggioranza di voi, però per chi magari è nuovo, nuovo, nuovo del gioco, potrebbero non essere così scontate. Quindi noi adesso abbiamo finito la nostra battaglia contro la campagna, vogliamo farla ripartire. Normalmente dovremmo pigiare sul replay, ma se io invece, adesso vedete che il cursore per i fatti suoi, vado a pigiare R, la partita ricomincia in automatico. Quindi se io utilizzo un software che pigia da solo R, a intervalli irregolari, ebbene, le partite andranno avanti all'infinito. Fino a poco tempo fa, questi erano gli autoclicker, chi utilizzava AutoHot, chi non utilizzava nient'altro che un software, insomma un piccolo tool, che andava a pigiare ogni tot secondi il tasto R, casualmente uno di questi click sarebbe caduto nella schermata di vittoria e avrebbe fatto a ripartire una nuova battaglia all'infinito. Però ovviamente la gente è intraprendente e non si ferma a questo, no? Se c'è la possibilità di aggiungere anche ulteriori funzioni, perché non farlo? E quindi uno sviluppatore che credo sia tedesco per la lingua dei menu, in realtà la lingua generale di RSL Helper è in inglese, assolutamente, però i vari link per scaricarlo ed altre voci sono in tedesco, quindi immagino che lo sviluppatore sia tedesco. Ma comunque RSL Helper secondo me è uno dei migliori, so che ce ne sono anche altri di autoclicker avanzati, ma oggi vorrei parlarvi di questo, ve lo ritengo insomma il più efficiente, perché non ci ferma a farci cliccare in automatico. Innanzitutto ci dà la possibilità di dirgli quante run vogliamo fare, quindi se ci bastano 20 run possiamo farle, possiamo addirittura inserirgli un target di punti evento, quindi per esempio, che ne so, io so che voglio arrivare ad un determinato premio e non oltre di un evento, perché magari, che ne so, a me interessa soltanto un raro di una fusione, non voglio andare oltre. Per esempio supponiamo che il raro in questione sia 5200 punti, ebbene io su RSL Helper gli dirò voglio che tu ti fermi a 5250 punti. Lui comincerà a far partire le battaglie, a seconda dei pezzi che trova, questo countdown scenderà, quando arriva a 0 lui si ferma e io sono sicuro al 100% di avere i punti evento che mi servono. Un'altra cosa invece che è molto utile potrebbe essere questo, number of the free potion, si intendono le pozioni grandi. Supponiamo che io voglia farmare 10 pozioni grandi blu che mi servono per un determinato campione, io metto qua 10 e l'autoclicker si ferma solo quando mi ha trovato queste 10 pozioni che mi servono. Questa era una cosa molto utile in passato, quando il gioco vi riempiva di pozioni piccole. Adesso che c'è la possibilità di prendere solo quelle medie o quelle grandi attraverso la fase 20 è tutto molto più semplice e magari non vi servirà più, però una volta era veramente veramente importante. È possibile anche dargli un indicatore di tempo con cui far partire le run, secondo me questa è una cosa inutile, vedete voi. È possibile poi dargli altre impostazioni, per esempio dirgli di portare tutti i campioni ad un determinato livello, quindi potrei dire per esempio, ok portami tutti questi campioni 4 stelle al livello 40 farmando in campagna. Quindi non gli do un conto di run da fare, ma semplicemente sarà lui che nel momento in cui questi campioni sono a livello 40 si fermerà. Posso anche dirgli di portare tutti i campioni al massimo delle pergamene dal Minotauro e anche questa è una cosa buonissima, basta sprechi di energia perché dovete calcolare grosso modo quanta energia vi servirà per portare un campione al massimo delle pergamene. L'autoclicker lo fa per voi, quindi non dovete fare altro che mettere o il Mino Scroll, vedete che tutta questa parte qui diventa grigia perché è il rilevante, digli quante run volete fare e lui si fermerà soltanto quando vede 950 rosso, ok? Potete dirgli di spegnere il computer quando ho finito di fare quello che deve fare, anche questa è una cosa che sto utilizzando parecchio, funziona perfettamente, funziona davvero bene, oppure potete semplicemente fargli usare l'energia che c'è a disposizione. Quindi che ne so, l'energia di oggi va dal Minotauro, non mi importa che la utilizzi tutta perché tanto quella deve essere, so già che non mi basterà per completare il campione, ma voglio che quell'energia oggi finisca nelle pergamene, oppure dal Drago, oppure in qualsiasi posto, ok? Run Effective Resources, lui utilizza soltanto l'energia che c'è a disposizione, tanti saluti. Ma non è finita qui perché questo buon autoclicker ha anche le funzioni che i precedenti non avevano, vale a dire l'autorefill, quindi io ho la possibilità di dirgli, ok, fammi 100 run, non ho abbastanza energia, nessun problema perché c'è l'autorefill e il gioco va a riempirsi da solo dell'energia necessaria. E poi l'autoforge, ma l'autoforge lo vediamo dopo, adesso andiamo a vedere un attimo come funziona nel pratico. Il nostro beneamato autoclicker, quindi supponiamo che io voglia fare una ventina di run contro la tanna del ragno 20, perché ho bisogno di argento, perché c'è un torneo, per qualsiasi motivo insomma per cui io voglia partecipare a questa cosa qua. Il team in questione mi va bene, l'ho già sistemato, l'ho già settato, faccio partire la prima battaglia che mi costerà un po' di corrente elettrica, naturalmente. Nel frattempo io vado già a prepararmi il mio autoclicker, quindi gli dirò che voglio fare appunto 20 run e basta fondamentalmente, niente di più niente di meno, 20 run e quando ho fatto le 20 run deve fermarsi. Quindi io adesso che è finita la battaglia faccio partire, lui in automatico fa partire la run, il mio mouse è libero, in realtà io posso fare qualsiasi altra cosa, quindi se volete guardarvi un video su YouTube magari del mardi, fatelo. Se volete fare qualsiasi altra cosa sapete che il vostro mouse è perfettamente libero, perché nel momento in cui la battaglia è finita, dopo 3 secondi ripartirà e nel momento in cui appunto finiscono queste 18 multibattaglie, l'autoclicker si ferma. Possiamo però aggiungere anche ulteriore carne al fuoco, supponiamo ora che io voglia anche vendere questi artefatti perché ok, è divertente mettersi là, spulciare tutti i pezzi buoni, però raggiunto un determinato livello certi pezzi non li volete proprio più vedere, non vi serviranno più. Per esempio un banner precisione potrebbe essere utile, però io sicuramente degli ombranti ho un banner precisione 6 stelle o 5 stelle, però almeno con velocità come sottostatistica. Precisione con attacco base e HP base non mi serve assolutamente a nulla, proprio è da cestinare. Quindi quello che io farei di solito è proprio questo, vendi e via. Ma il gioco può farlo per voi ed è completamente impostabile, quindi non venderà a caso ma posso dirgli io esattamente che cosa voglio che venda. Dalle impostazioni qui, quindi sell option, vedete che posso dirgli di vendere determinate cose in base alle stelle. Quindi che ne so, tutti i pezzi una stella, tutti i pezzi due stelle, tutti i pezzi tre stelle, tutti i pezzi quattro stelle. Poi in base al vostro livello potreste decidere, che ne so, di vendere tutti i pezzi quattro stelle da raro in giù, da epico in giù, quello che volete, in sostanza. Io li metto tutti perché i pezzi quattro stelle, a parte il fatto che in questa fase 20 è impossibile trovarne ma comunque in altri contesti potrebbe essere utile e vedremo comunque dopo anche gli altri contesti. Io di solito vendo tutti i pezzi da epico in giù 5 stelle, mi tengo soltanto i leggendari nel caso in cui ci siano alcune sottostate che possono essermi utili e tutti i pezzi 6 stelle da raro in giù. Voi potreste anche decidere di tenere tutti i pezzi 6 stelle, in questo caso mettete uncommon perché tanto questa fase vi dà da raro in su, quindi terrà tutti i pezzi. Possiamo fare così per esempio. Potete anche eventualmente dargli indicazione sui valori minimi di determinate sottostatistiche questa la vedo più una cosa un po' da quelli che farmano veramente, veramente tanto e parlo di migliaia di run, vi consiglio di non toccare più di tanto questa parte mentre sulla parte sinistra avete delle impostazioni aggiuntive. Per quando andate a farmare pezzi normali tipo dal drago, pirico, qualsiasi altra roccaforta è normale insomma potete dirgli di vendere in automatico tutti i pezzi flat che ne so, una corazza HP flat, un guanto HP flat e così via potete dirgli tranquillamente di venderlo indipendentemente della rarità fatelo perché sono pezzi che non utilizzerete mai anche se avete un pezzo 6 stelle leggendario ma che è uscito con HP flat tranne in casi particolarissimi non lo utilizzerete mai quindi andate pure tranquilli e bruciate tutto lo stesso dicasi anche per gli amuleti con attacco come statistica base gli amuleti con attacco come statistica base non si utilizzano mai perché in quel caso voi andrete ad utilizzare un amuleto danno decisivo e non assolutamente attacco non vi serve, non fatelo, vendeteli pure tutti quindi questa spunta potete tranquillamente metterla di solito potete mettere questa cosa di tenere tutti gli standardi con precisione perché poi siete voi a valutare quindi se ci sono sottostatistiche inutili va bene magari lo buttate via oppure è l'unico standardo che avete di quella determinata fazione forse vi conviene tenerlo anche con statistiche peggiori il gioco vi dà la possibilità di salvarli quindi potreste anche mettere la spunta su questa cosa qui e inoltre potete mettere la spunta su mantieni tutti gli stivali velocità questa è una cosa che consiglio perché gli stivali velocità sono sempre buoni poi state poco a buttarli via, saccarli se dovessero fare proprio schifo 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 magari siete già a posto di determinati set però intanto li tenete e poi si valuta tutto il resto invece può essere magari venduto con maggiore scioltezza il cavaliere pirico invece che è famoso per set molto particolari e potenti vi dà la possibilità di aggiungere impostazioni aggiuntive quindi per esempio del set cura di solito non si tiene niente quindi potete tranquillamente cestinare qualsiasi pezzo del set cura oppure potreste decidere di vendere tutto tranne i pezzi 6 stelle leggendari magari un pezzo buono potrebbe uscire con delle ottime sottostatistiche lo utilizzerete come set rotto per esempio oppure epici in base a quello che volete o mantenere tutto decidete voi insomma questa è una cosa che ritengo gutile non l'ho ancora mai utilizzato onestamente ma penso che prima o poi me la imposterò perché potrebbe essere veramente utile soprattutto se andate a farmare fasi oltre la 20 quindi questa e tutta l'autoshell in generale è veramente veramente buono comunque adesso andiamo a testarlo ok quindi abbiamo detto che lui venda qualsiasi cosa al di sotto delle 4 stelle ma va bene in questo livello non ne troveremo e poi andremo a vendere tutti i pezzi 5 stelle da raro in giù e tutti i pezzi 6 stelle invece li andremo a tenere quindi adesso facciamo così facciamo un piccolo giro di prova e vediamo che cosa succede se siamo fortunati di trovare un pezzo schifoso ah scusate bisogna mettergli un po' di run se no non parte un pezzo schifoso e vediamo se lo vende anche questa cosa comunque anche la vendita automatica dei pezzi vi libera completamente il mouse fino a poco tempo fa non era così quindi vedevate proprio il puntatore fisicamente spostarsi all'interno della scremata di gioco per andare a vendere l'oggetto in questione adesso non è più così anzi è istantaneo quindi non so se hanno aggiunto un tasto per l'autovendita probabilmente forse potrebbe essere così perché tutte queste cose che non coinvolgono il mouse naturalmente si fanno pigiando tasti della tastiera fisica ecco quindi anche se in maniera virtuale vedete adesso è un pezzo schifoso dovrebbe venderlo e invece non l'ha fatto perché io stupidamente mi sono dimenticato di pigiare sull'autosell quindi adesso dobbiamo sperare che ci esca un altro pezzo schifoso al prossimo giro ma in genere sono molto fortunato per i pezzi schifosi ricordatevi comunque che va messo l'autosell se no non funziona ok ok un pezzo inutile sì infatti vedete che l'ha venduto l'ha venduto è venuto fuori la scritta sold quindi ci siamo sbarazzati del pezzo e via e questa cosa funziona sempre funziona molto molto bene per le multibattaglie ma funziona tremendamente bene anche per l'autoforgia sì avete capito bene questo software ci permette anche di fare l'autoforgia che secondo me in chiave CVC è una delle cose più belle in assoluto quindi noi ci spostiamo alla forgia ci spostiamo alla forgia e diciamo al gioco che vogliamo macinare un bel po' di tutta questa roba per trasformarla in pezzi normalmente dovremmo cliccare aspettare tutta l'animazione 500 punti sarà anche un pezzo buono sì mi è andato anche bene è un pezzo buono ok lo teniamo e ancora una volta andremo a dargli delle impostazioni io di solito qui butto via tutti i pezzi rari 6 stelle non mi interessano e tutti i pezzi appunto da epico in giù quindi manteniamo le impostazioni che c'erano precedentemente conta come se fossero delle run l'autoforgia quindi gli date che ne so per esempio 10 run andiamo a cliccare l'autoforgia l'autoseller è già attivato non dobbiamo fare altro che cliccare su start e il gioco parte da solo a vendere tutta la mercanzia se qualcosa è buono lo tiene se qualcosa fa schifo lo vende come sta facendo in questo caso vedete però questi sono tutti i punti per il CVC che vi entrano sono tutti i soldi che vi entrano quindi se vi chiedete come mai di colpo sono passato da viaggiare sui 20-30 milioni a superare di gran lunga i 250 ebbene questo è il segreto o meglio questo come tanti altri utilizzare l'autoclicker con l'autovendita e utilizzare anche l'autoforgia con l'autovendita anche perché se voi giocate da un po' sarete ormai completamente saturi di tutti i materiali da forgia ok non mi riferisco a quelli leggendari ed epici ma anche a quelli rari quelli rari non vi servono niente vedete che io li ho già fusi praticamente tutti ormai però di determinati set potrei averne ancora perché comunque ho il brutto vizio di farmare la fase ecco del set guardiano vedete che ho ancora qualcosa perché ho il brutto vizio quando non ho voglia insomma di utilizzare le chiavi giornaliere nelle fasi avanzate dell'autore tosta le sbatto dal grifone al primo piano che in 3 secondi insomma finisce tutte le run e mi metto da parte un sacco di materiali per i pezzi 3-4 stelle 3-4 stelle sono pezzi inutili che voi non utilizzerete mai è tutta roba da vendere però guardate molto bene forgiare un pezzo vi costa mille vendere anche un pezzo schifosissimo quindi 4 stelle raro vi da 13.000 quindi voi andate a guadagnare di fatto 13 volte l'investimento è un bel po' è veramente veramente un bel po' voi andate ad impostare l'autoclicker perché venda tutto senza star là più di tanto guardare vedete che vi costa un solo lingotto dell'arena quindi la parte più preziosa vi costa veramente poco voi andate ad impostare il vostro autoclicker perché venda tutto non serve neanche che io vado a toccare l'autosail perché sa già che deve vendere tutta la roba al di sotto delle 4 stelle e questa fase della forgia ci produce soltanto roba che venderemo ma è argento sono punti per i cvc pochi ma comunque sono punti e soprattutto è argento può sembrare poco ma quando voi ne fate fuori a centinaia a migliaia di questi pezzi schifosi qui sono diversi milioni di argento che vengono fuori dal nulla provate a farlo vedrete mi ringrazierete di quanto argento avevate lì a disposizione anche perché non è che voi potete accumulare materiali da forgia all'infinito potete accumulare se non sbaglio al massimo 10.000 pezzi per tipo che può sembrare tantissimo ma nel giro di qualche mese li avete fatti nel giro di qualche mese vi assicuro che li avete fatti e posso testimoniarvelo io stesso perché guardate ho fatto fuori tutti i pezzi normali del set percezione tutto quello che avevo fuori tutto del set percezione all'ultimo cvc vale a dire due settimane fa da due settimane fa ad oggi ho riaccumulato tutti questi pezzi tra leggendari ed epici ok quindi ne vale la pena utilizzarlo tutte le volte che si può durante i cvc insomma perché se giocate nelle crypte di fazione a livelli abbastanza elevati sopra il 19 insomma 20 21 come fasi beh riempirete il vostro sacco dei materiali da forgia veramente molto molto in fretta e quindi questo secondo me è uno strumento veramente molto molto potente per voi la voce autoclicker comunque non è l'unica a vostra disposizione avete anche un simulatore per i clan boss anche se io ritengo un po' più prestante quello di the blue jedi e forse anche un po' più semplice da utilizzare ci sono altri tool utili e quindi per esempio il rapporto tra resistenza e precisione anche se secondo me sono più valori da comprendere che strumenti da utilizzare poi effettivamente in combattimento avete anche questo bundle calculator che non è male in base a determinate stime vi dà la possibilità di valutare se una determinata offerta della plarium è valida oppure no avete poi un index dei campioni questo non ho capito se riguarda i campioni che avete voi oppure in generale probabilmente forse sì perché vedo che le statistiche sono quelle dei miei campioni quindi sì sicuramente l'event tracker non è male vi dà la possibilità di vedere quali sono gli eventi in corso c'era anche lo shard tracker ma purtroppo questo è stato oscurato e non funziona più purtroppo però comunque è una cosa molto buona chissà che un giorno la plarium non renda disponibile nuovamente queste informazioni perché alla fine non c'era nessun furto non c'era davvero nessun furto comunque per adesso la cosa è in stand by ma la cosa più importante di tutte la parte più importante resta l'autoclicker quindi vi consiglio di scaricarlo di utilizzarlo troverete queste informazioni poi insomma i link dove scaricare quant'altro nelle schede qua sotto non preoccupatevi questo è ciò che volevo dirvi ho soltanto spolverato un po' le potenzialità di questo sistema perché davvero si può fare di tutto e di più con questo autoclicker e credo che ce ne siano comunque anche altri quindi informatevi in proposito ed ecco qui allora il video finisce qui raga come al solito vi invito a lasciare i vostri commenti qui sotto con il vostro parere le vostre impressioni tutto quello che vi pare domande tutto quello che volete scrivetemelo pure qua sotto lasciate un mi piace se avete gradito perché ci tengo iscrivetevi al canale cosa super importante e accendete la campanella così anche voi potrete fare 50 miliardi di punti al cvc e infine come dico sempre siate furiosi ma rimanete bravi e infine grazie a tutti